Che cos'è Tor? Avete mai sentito parlare di Tor? No, non sto parlando di Tor, il film tratto dal fumetto Marvel P. Sto parlando di un software, sistema per il computer, uno strumento per i navigatori più smaliziati. Che cos'è Tor, cosa significa e a cosa serve? Tor sta per The Onion Router, il cui significato in italiano è tipo il router a cipolla. Tor è un sistema di comunicazione anonima per Internet, che si basa sul protocollo di rete di Onion Routing. Il protocollo di rete Onion Routing è in pratica una tecnica per rendere anonime le comunicazioni in una rete di telecomunicazioni. In una rete Onion, i messaggi sono incastonati in strati, come quelli di una cipolla, di criptografia. Il dato criptato viene poi trasmesso tramite una serie di nodi, gli Onion Router, ciascuno dei quali sbuccia toglie un singolo strato di criptografia, scoprendo così il successivo nodo di destinazione del dato stesso. Il mittente rimane quindi, in teoria, anonimo, dato che ciascun intermediario conosce solo la posizione del nodo precedente e di quello successivo. Capirete quindi che Tor serve per proteggere la privacy del navigatore su Internet, soprattutto per quei navigatori che vogliono nascondere quello che stanno facendo e celare la propria identità. Quando è nato Tor? Tor fu sviluppato in fase embrionale a metà degli anni 90 per la US Naval Resarch Laboratori, dal matematico Paul Siverson e da Michael Reed. Lo scopo di Tor era quello di proteggere le comunicazioni dei servizi segreti americani. Fu poi implementato ulteriormente nel 1997, ma la prima versione più o meno definitiva fu lanciata solo nel 2002. Successivamente, nel 2004, il codice di Tor fu rilasciato con una licenza open source. Il progetto Tor ufficiale invece, Tator Project, fu fondato nel 2006 da Dingledine e Mateson. Grazie a Tor quindi, è oggi possibile navigare anonimi su Internet.